ragazzi benvenuti in questo ennesimo video di reazione a un altro video di altri youtuber facciamo così vi faccio già vedere quello che andremo a vedere oggi lo vedete la in alto lo vedete la e sei anni la stessa cosa non riuscirò mai dobbiamo parlare stiamo parlando del video pubblicato circa un mese fa da quei due sul server quindi rezz e sinergo mario nicola per chi li conosce da tanto tempo hanno pubblicato questo video e io avevo subodorato immaginando quello che volevano dire che si stava avrebbero parlato di quelle che sarebbero state le loro prossime attività qui su youtube in parte ci ho azzeccato perché in realtà questo è il video con cui loro tolgo la suspense perché è già passato più di un mese ormai hanno annunciato l'apertura del loro patron che non sta andando affatto male anzi fa più di 1500 sottoscrizioni 1200 sottoscrizioni dopo pochissimi giorni avevo controllato all'epoca non hanno più ricontrollato adesso non è tanto l'oggetto del contendere il patreon quanto alcune cose e come viene facciamo che faccia partire il video alzo il volume per voi ragazzi spero non vi distrugga le tempie le tempie no i timpani forse sì ma andiamo in principio era il nulla ci sta una distesa nera sospesa nell'infinito e così fu per infinito tempo finché l'universo venne creato interrompo su questa schermata di bianco oltre che per fulminarvi gli occhi a me come mi stanno fulminando a me comunque per mettere sempre comunque un punto a favore di questo server perché sanno fare queste cose quindi bravi a loro assolutamente bravi loro e da qui per miliardi di anni gli atomi si aggredono creando le cose del mondo i fili d'erba le rocce le gocce di pioggia i funghi le unghie degli elefanti la pelle degli acari i petali del tarassaco il buco del culo degli acari le piadine la cacca i capelli di morgan quei due sul serve ferma fermati qui questi due sono interessanti vero mi ricordano il buco del culo degli acari uguali uguali si hanno sempre questa vena auto ironica che ripeto mi piace molto è una delle cose che che mi hanno sempre diciamo attirato verso i loro video è proprio la produzione anche molto comica dei loro contenuti di quelli anche più seri perché con una risata riuscivano anche a spiegare la loro opinione su certi fatti un po pesanti ma non vi torniamo oltre non dura troppo il video ti scherza ovviamente abbiamo siamo così importanti l'universo andrebbe avanti anche senza di noi e ragazzi abbiamo passato tutto il 2023 a pensarci a immaginare un universo senza qdss è già perché sarebbe davvero la stessa cosa senza di noi chi parlerebbe di videogiochi cacando il cazzo a tutto ea tutti senza di noi con chi litigherebbe sony e chi porterebbe un playthrough intero di baldo ma soprattutto come farebbero poi gli acari a cagare ma parlando seriamente una volta tanto siamo stati in crisi e forse i nostri iscritti più affezionati se ne sono accorti in effetti è tanto tempo che non esce una nuova canzone iniziando a fare un piccolo commento perché poi tanto il topic principale arriverà brevissimo il fatto che una realtà come quella di credo sul server vada in crisi e anche anche qui diciamo può essere messa sul banco degli imputati le di minori i minori guadagni che youtube comunque nei corsi degli anni sta dando perché si parlerà di questo ma dovevo parlare di questo ragazzi ho spesso mi interrompo perché mi mangi un po le parole perché inizio a vedere un pattern il loro video è arrivato prima di quello di mike shosha e contestualmente anche ad altri un pattern di persone che stanno iniziando a rendersi conto dei minori guadagni di youtube ma non sono persone che sono arrivate su youtube tre anni fa e quindi hanno iniziato ad avere un vero impatto con un'evoluzione professionale un'evoluzione dei mezzi delle persone che lavorano mi perdonerà sinergo fermi immagine un po sfortunato mi stupisce questo perché stiamo parlando di realtà consolidate di persone che hanno numeri importanti e persone che sono riuscite a creare uno studio un ufficio di persone quindi anche assumere determinate persone l'assunzione di persone comporta un grande costo e ragazzi basta mettere i piedi nel mondo del lavoro dopo poco tempo si si rende conto di quanto costi un anno di lavoro a un datore di lavoro e quindi un po mi stupisce questa sveglia così però andiamo avanti abbiamo messo in stand by diversi progetti speciali che state aspettando eppure il primo canale è rimasto immobile per mesi prima che ci decidessimo ci forzassimo a riprendere a pubblicare con costanza alla fine del 2023 ora non ricordo esattamente la costanza delle loro pubblicazioni perché non sempre guardo il loro canale i loro canali perché doveva iniziare a parlare dei loro canali però li ho sempre visti molto sul pezzo spesso volete youtube mi faceva vedere dei loro video appena usciti usciti da poco non ho mai avvertito un'assenza dei quei due sul server dalla piattaforma di youtube assenza che si sarebbe avvertita nel momento in cui loro avessero si fossero fermati con le pubblicazioni su tutti i canali faceva schifo vederlo lì a prendere polvere come una playstation portal qualsiasi anche perché è il canale che ha dato il via a tutto il nostro ecosistema e nonostante i contenuti siano tornati e siano apprezzatissimi questi sono i guadagni a fronte di giorni e giorni di documentazione ok no apprezzatissimi questo ok va bene allora ok dobbiamo parlare di questa cosa perché dobbiamo parlare di questa cosa io chiedo scusa perdono se le mie parole assumeranno un tono forte ma inizio a essere altamente intollerante a certe puttanate e qui lo dico qui su youtube questa schermata che abbiamo ormai imparato a conoscere anche voi che non siete degli addetti lavori è la nella pagina delle youtube analytics vedete la la colonna di a sinistra il tab delle entrate perfetto questo è il tab delle entrate relative a gennaio primo 31 gennaio quindi è stato fatto a febbraio inoltrato per permettere youtube le sue metriche di calcolare l'importo guadagnato durante quel periodo ora qui ci sono evidenziate visualizzati quattro video su 31 giorni ok quindi un video a settimana circa ce ne sono due po più ravvicinati ma è circa un video a settimana ok questo video a settimana quindi questi quattro video hanno pubblicano generato un livello di entrate di 1837 o 1838 rotondo io ovviamente lordi dei quali bisogna bisogna decortare circa la facciamo grossa un 35 40 per cento facciamo la grossa non stiamo lì a prendere il pelo dell'uovo della percentuale ok quindi stiamo parlando che circa 1200 euro 1100 euro mille facciamo mille sono i ricavi netti su quattro video quindi capite bene che faceva te facendo un rapido conto sono circa 250 euro a video ok quattro di un canale quei due su server hanno avuto la brillante idea nel corso degli anni di creare tanti canali nei quali indirizzare di volte in volte i vari video rinominando neanche spesso e volentieri qui di essere rimasto quello cambiando magari il logo spesso e volentieri ma rimanendo comunque loro canale principale poi c'è quei due sul gaming quei due sul relax hanno 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 i loro canali privati sia redes che sinergo cose dell'altro cinema e quello di di sinergo quello di redes non mi ricordo tutto sbagliato forse non sto 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 confondendo ma hanno circa cinque canali in totale negli altri canali immaginandomi delle revenue simili ma con più video e magari un pelino meno di visualizzazioni per video non so non so come altro dirvelo ragazzi non facciamo e non ho voglia di fare la morale a nessuno e il conti in tasca a nessuno questa metrica è chiaramente parziale come lo era quello di mcshosha qui bisognava che quei due sul server avessero fatto vedere i guadagni del mese di gennaio di tutti e di tutti i loro canali anche soltanto della galassia qdss escludendo i canali personali di redes e sinergo hanno se non ricordo male dalle tre alle quattro persone che lavorano con loro due che sono anche in video spesso e volentieri altri due che lavorano diciamo dietro dietro uno schermo e non anche a contatto col video sono molto bravi nella raccolta fondi perché hanno lanciato due taki starter anche molto interessante carini hanno creato dal nulla il termo di comics and games questo ripeto va dato atto e io continuerò a sostenere fatto che le persone che più mi hanno ispirato nelle nelle innovazioni nella voglia di provare a cambiare nel non rimanere mai fermo nel diversificare tutto sono proprio loro e infatti mi dispiace vedere un video di questo tenore questi soldi non sono quelli che hanno guadagnato tutto il mese sono i soldi che ha guadagnato qdss che ha la pubblicazione più bassa di tutta la galassia di quei due su server quei due su relax a video lunghissimi young cat quindi video di un nuovo 1 ore 20 quei due sul gaming a video quindi più cura un pochino più curati ma comunque gameplay non fa chiaramente i numeri che fanno qua ma alzando il livello alzando il numero delle pubblicazioni riesce a calmerare l'abbassamento delle visual io credo che al mese facendo una stima di guadagni stiano sui 56 mila euro soltanto 5.000 5.000 soltanto da revenue dirette di youtube attenzione perché le revenue dirette di youtube sono da qui vedete annunci della pagina di visualizzazione annunci del feed shorts se le fanno ma non sono visti qua dentro non sono contemplati eventualmente qualche super che qui dentro ha contemplato i super grazie intendo dire quelli non sono contemplate le ad che fanno esternamente quindi NordVPN che è una delle ad che paga di più di tutte si sta parlando di 5 cifre quindi lamentarsi va bene andiamo avanti questi sono i guadagni a fronte di giorni e giorni di documentazione scrittura riprese e montaggio guadagni ai quali vanno falciate via le tasse e la percentuale del nostro network insomma raga fate dimenticavo c'era anche il network diviso 2 più o meno però anche così fanno diviso 2 quindi aspetta e qui dobbiamo dare la colpa a qualcuno dobbiamo fare un video di sfogo in cui vi facciamo sentire in colpa ma non lo faremo primo perché non siamo il tipo di youtuber che dà la colpa all'utenza e secondo perché voi ci siete pochi cazzo ma neanche Mike Shaw ci ha dato colpa all'utenza si ci siete sempre non mancano le views i commenti il feedback i consigli ci supportate quando facciamo delle cagate atomiche e anche quando facciamo le cose belle il problema raga non siete voi voi siete il motivo per cui abbiamo tirato avanti nonostante tutto stia cambiando in peggio ormai da tre anni tanto per dire è la piattaforma stessa che ci sta mettendo i bastoni tra le ruote dalla di l'ipocalips in poi è stato un massacro sapete l'ipocalips quando tutti se ne sono scappati da youtube per andare su twitch perché qui non si guadagnava più una sega ecco da lì in poi l'algoritmo è diventato un nemico un tiranno e c'è ancora la narrazione dell'algoritmo dell'algoritmo nemico e tiranno forse veramente cazzo bisognerebbe fare un passo indietro e non dare un continuamente io non io non capisco questa cosa che avvelisce affligge tutta l'umanità di tutti degli ambiti puntare il dito sempre all'altra è colpa di youtube è colpa dell'algoritmo è colpa di tiktok è colpa degli shots è colpa dei reel è colpa di sua mamma è colpa di suo papà semplicemente l'utenza è cambiata semplicemente qualcuno che vi seguiva non vi segue più non si può rimanere sulla cresta dell'onda forever and ever ragazzi sono pochi al mondo le personalità che dopo 50 anni sono ancora sulla cresta dell'onda a livello di intrattenimento sto parlando di intrattenimento includendo anche il cinema perché non è cinema questo chiaramente ma è un media audiovisivo che come il cinema cazzo c'è è anche normale immaginarsi che le cose potrebbero anche peggiorare ok e non è colpa del e non è colpa non è togliamoci dalla testa questa cazzata che è colpa dell'algoritmo perché youtube non lo sto difendendo attenzione youtube anche da altri problemi non manda le notifiche a chi le attivate con abilitato anche sui devices fa principalmente è quello alcune impostazioni della schermata di home sono un po così ma youtube fa vedere i video a chi li deve vedere ok smettiamola di dire che l'algoritmo è un nemico smettiamola di dire che è colpa dell'algoritmo iniziamo a guardare in casa nostra e dire la gente mi segue un po meno di prima o ho creato tutto questo environment intorno a me di gente che lavora con me abbiamo creato tutto un ufficio adesso non è più sostenibile per quale motivo ad abitare l'algoritmo un errore bisogna trovare una soluzione e la soluzione che hanno trovato loro è la soluzione più logica mi venga dire ed è questo che non capisco perché accusare l'algoritmo perché lo perché lo facciano anche loro ecco hanno roba di serie a roba di serie z roba che va in tendenza e roba che va oscurata e poi è arrivato anche tic toc che di per sé non fa dove abbiamo già sentito questa lamentela dove l'abbiamo già si male a nessuno a parte alla soglia della attenzione c'è da dire il contrario però dell'intero pianeta terra ma comunque fa danni indirettamente perché youtube ha messo gli occhi sul fenomeno ha detto e quindi la piattaforma adesso spinge soltanto gli fagli shorts che non è vero neanche questo in quanto ho notato io stesso un aumento importante delle visualizzazioni sui video lunghi l'esatto opposto tant'è che gli shorts sono da un'altra parte perché youtube deve fare la tic toc di wish piuttosto che fare quello per cui è nata ma noi raga non ci va di fare gli short solo per raggiungere il pubblico a noi piace parlare con voi come se parlassimo con degli amici al pub quindi senza fretta sparando tutte le cazzate che vogliamo ti vogliamo tenere compagnia per qualcosa di più di 30 secondi e quindi ci siamo ostinati ad andare avanti a fare di più e lo stiamo facendo divertendoci da più di dieci anni grazie a qdss ho ancora dolore alla pancia dalle risate che è una cosa che nella vita di tutti i giorni non mi capita mai grazie a qdss posso ammetto che alcune cose anche degli anni passati erano veramente incredibili posso giocare a un videogioco fino a tardi e sentirmi meno in colpa perché sto lavorando al canale insomma qdss non è solo intrattenimento per voi lo è anche per noi ed è sempre stata una valvola di sfogo oltre che un'entrata che ci dava l'opportunità di essere meno impegnati sul vero lavoro io lo dico sempre grazie ai più è brutto sentir dire vero lavoro da loro perché mina un po quel processo molto lungo complicato che stiamo facendo da tanti anni fa capire la gente guardate questa roba qui si è fatta con un criterio con delle persone con una direzione artistica con una ricerca dell'inquadratura una ricerca della scrittura dei test eccetera è un lavoro è un lavoro come tutti gli altri il lavoro vero è descazzo dai hub abbiamo smesso di fare foto e video matrimoniali quella fetta del nostro tempo e del nostro guadagno è stata rimpiazzata dai già meglio però ragazzi e ragazze ci siamo fatti due conti e le cose non stanno più così da almeno due anni avevamo i podcast ma li abbiamo dovuti togliere perché a fronte del tempo che ci prendevano non c'era un'entrata di nessun tipo e hanno su spotify si può guadagnare senza nessun problema quindi credo che sia più un discorso di andare a trovare migliorare quello che già c'è però ripeto il patro non è un problema piaceva un sacco fare i podcast ci divertiva avere una specie di radio qdss ma lo sapete non è entrato un euro da quel progetto e noi vorremmo andare avanti lo stesso però youtube sta diventando un lusso un lusso che non possiamo più permetterci non così almeno e se anche youtube pagasse bene questo è il problema creativo tante cose non possiamo farle più questo è vero abbiamo iniziato con qdss questa parte ma in questo momento c'è una parte di video su cui mi trovo assolutamente d'accordo su tutta la linea come una rubrica sui giochi zozzi giochi zozzi raga e ci spaccavamo da ridere certo si censuravano le cose troppo esplicite ma oggi quel materiale anche censurato è tutto in visibilità limitata o è addirittura stato eliminato dalla stessa piattaforma ci sta che questo sia un problema sul video di o scusate su un video di dieci anni fa magari le entrate non ci sono più da un po e vi giuro non c'è neanche una tetta in quei video e il video alcolico abbiamo in mente una cosa davvero grossa ma sappiamo che se la facessimo come vogliamo sarebbe limitatissimo proprio matematicamente e siccome sulla carta è terribilmente laborioso moriremmo dentro nel vederli fare due viso all'incrocio meno guadagni e meno libertà potremmo sintetizzare così ma tanto basta per farci andare nel pallone rendere tutto più complicato e ci sentiamo come quando eravamo bambini e nostra madre ci chiamava dalla finestra orlando basta giocare entra in casa e viene a fare i compiti tradotto smettetela di fare youtube e pensate solo al lavoro vero qua parte un video di pubblicità che io vi oscure no però sono anche qui almeno ha fatto lavoro vero dicevo almeno ha fatto così sinergo dicendo lavoro vero salto direttamente al punto in cui parlano del patreon ovvero lo dicono in un modo costernato quando secondo me dovrebbero essere costernati dal fatto di averci impiegato tutti quei tutti questi anni perché ragazzi patreon non è vendere l'anima al diavolo patron è dire alle persone volete supportare il nostro lavoro volete un contenuto diverso ti chiediamo una mano se il padre dovesse fallire c'è un'altra soluzione ma li avresti toccato con mano la fattibilità di certe cose ora lamentarsi a prescindere fallo passare così quando in realtà vedremo un patron fatto come dio comanda staccarci da una piattaforma che ragiona solo per algoritmi e rendere conto direttamente alle persone che ci seguono e quindi oggi nasce qdss kingdom il nostro patreon negli scorsi mesi abbiamo ricavato un po di tempo per creare un testo di apertura di tutto rispetto come non giusto padre non otterrete il ritorno dei podcast in esclusiva e vedrete delle recensioni di giochi che non potremmo mai portare su youtube perché farebbero 10 visualizzazioni ma magari sono giochi che ci piacciono e vogliamo consigliarvi quel frame precedente di del gioco e di uno dei giochi di cui volevo parlarvi tempo fa e spero di avere la possibilità l'opportunità di farlo insieme a voi qui su youtube per smentire questa cosa qui per smentire esattamente questa cosa qui perché io non avvio io sono pronta a mettere la mano il piede e anche qualche altro appendice del mio corpo sul fuoco che quel video quel videogioco fatto da loro aveva fatto un sacco un sacco un sacco di visual vogliamo fare live esclusive per gli utenti non limitato di guadagni antipatreon e anzi la prima ci sarà questo mercoledì alle ore 17 quindi il 28 al 17 direttamente su patreon vi racconteremo i retroscena di questa scelta che vi assicuro non è stata semplice io ragazzi ve l'ho già detto non vi voglio ripetere non è stata semplice sembra sembrano vabbè vogliamo realizzare delle serie su giochi che ci segnalerete meglio corti così accontentiamo un po tutti e portarli fino ai titoli di coda fino alla fine vogliamo liberarci da quella mentalità del non fa views quindi interrompiamo che questo gli do ragione spesso volentieri mi batto anch'io in questa questa mentalità e tra l'altro è stata sempre sul cazzo anche a noi il primo gioco completo è già su patreon gli altri li sceglieremo insieme tornerà la nostra serie dedicata alle barzellette che non c'entra un cazzo coi videogiochi ma è talmente cringe che la adoriamo in più ogni progetto speciale di qdss qdsg come progetti esterni cortometraggi il nuovo disco dei depressi sarà disponibile in anteprima su patreon prima dell'uscita sui canali e poi inoltre c'è questa cosa che abbiamo sempre voluto fare ma non c'è mai stato il tempo vogliamo realizzare del materiale di backstage proveniente dal nostro studio così potete vedere cosa succede perché in video queste cose non le avete mai visto insomma ragazzi l'idea è sostenere il canale anzi renderlo sostenibile perché vogliamo tornare a fare le cose perché sono belle e non perché ci pagano una cosa importante è che col patreon non vogliamo arricchirci quindi quando arriveremo a 3500 supporter troveremo il modo per abbassare i prezzi non avrebbe senso accumulare soldi che vanno oltre il valore di quello che vi stiamo promettendo e vogliamo anche fare un piccolo regalo di benvenuto perché per il primo mese negli ultimi due tier cioè quindi balivo e ser sarà incluso il nostro spettacolo live gratuitamente per tutti quanti invece è disponibile accesso a discord il nuovo server disco qua parlano adesso dei varie delle varie modifiche che hanno fatto diciamo quello che hanno introdotto ma io andrei direttamente sulla pagina patron loro perché sono molto curioso anzi probabilmente si potrebbe andare direttamente da qui esattamente esattamente noi andiamo sulla pagina patron di quei due sul server e hanno 1521 membri paganti ragazzi sono tanti soldi perché se noi facciamo la media io non credo ci sia la possibilità di vedere la quantità di serve già già raggiunta è già raggiunta quindi questo non lo possiamo vedere quindi peccato a farci i cavoli degli altri sarà molto divertente però tanta gente ha fatto se ci sono ancora posti limitati nel balivo e nei 25 10 euro ragazzi questi tier che vedete qua questi di questo no ma solo supera questi due tia anzi questi due tia sono esattamente le sottoscrizioni di twitch l'abbonamento livello 1 e livello 2 l'abbonamento livello 3 25 euro quindi diciamo che è un metà di questo più o meno però hanno praticamente creato un pattern basandosi su una metrica di costo che è quella di twitch banalmente che è stata sempre stata quella di twitch e quindi io dico ragazzi bello figo bello figo usatemi questi sono i video sul secondo canale cinque giorni fa quattro giorni fa due giorni fa un giorno fa otto giorni fa nove undici dodici due settimane fa tre settimane fa un mese fa dal video dal video questo video qdss siamo seri questo qua che vedete qui che è stato pubblicato un giorno dopo il video che avevo visto insieme adesso ragazzi hanno pubblicato 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 2 3 14 15 16 18 video in un mese che è un ottima un ottimo tabella di marcia e 5 g da settimana circa poco meno le visual sono quelle sono molto meno che il video di quei due sul server dobbiamo parlare dopo un mese a 183 mila visual andando sul video sul canale principale noi vedete che hanno effettivamente pubblicano sempre circa video settimana le visual qua sono da sono aumentate ma la media 83 103 loro hanno fatto la media con penso questi quattro giochi qua usatevi questi quattro video qua o un mistone di questi quattro comunque sono andati abbastanza bene sulla media dei 85 90 100 mila visual qua sono chiaramente minori ma fanno tre volte tanto i vino 48 12 se 5 volte tanto i video quindi capite che a fronte di una diminuzione di quattro volte tanto delle visual fanno 5 volte tante video è uguale è uguale guadagno certo devi verso il più impegno c'è gente dietro che ci lavora un sacco di gente che lavora ma non c'è solo quei due sul server e quei due sul server gaming c'è quei due sul relax ci sono anche altre iterazioni io non voglio e qua concludiamo il video io non voglio fare i conti in tasca a redes sinergo ripeto reputo degli imprenditori molto o molto furbi molto bravi assolutamente il patreon andava aperto anni fa letteralmente anni fa perché permetterà adesso in avanti a redes sinergo di guadagnare quello che hanno sempre guadagnato su youtube aggiungerci patron stiamo parlando che qua secondo me cifre importanti quindi stiamo parlando di diverse migliaia di euro se non decine di migliaia di euro al mese che per carità di dio merita tissime per fare roba ancora più bella ma perché l'hanno dovuto sponsorizzare l'hanno dovuto annunciare come se fosse una cosa negativa questo non mi spiego e per concludere ragazzi io devo farvi vedere una cosa perché sinceramente io devo farvi vedere una cosa perché è importante che voi vediate una cosa ragazzi è importantissimo perché noi dobbiamo riaprire qua e andare a vedere i commenti non voglio sapere quanto vale la mia auto grazie ok ci sono dei video ci sono dei commenti grazie che sono aberranti e qui non rioca lo ha qui a nere del sinergo chiaramente sono aberranti chi li ha fatti vi seguo da 2015 ma sicuramente sottoscriverò l'abbonamento da 10 euro al mese che magari sono 5 per accedere ai vostri contenuti che non sono esclusivi di patron a parte i podcast sono e alcune serie esclusive sono il podcast scusatemi il patron l'hanno fatto per supportare il loro lavoro qui su youtube per mantenere il lavoro che hanno sempre fatto per mantenere la quantità perché l'hanno detto noi potremmo rimanere qui diminuendo la quantità dei video che facciamo e anche la qualità ci sta per mantenere quello che già c'è adesso hanno aperto un'altra sezione non c'è bisogno che ci abboniamo niente conto di voi ma il giorno che il mio stipendio medio ma il giorno che con il stipendio medio donerò dei soldi a chi se la passa molto di me è lontano questo non è completamente sbagliato ok il primo tirano ad accesso ai video qua tutti non lavoriamo fatevi domande se guadagnate meno contenuti bassi sempre lagnosi allora sotto un video del genere normale arriverà è normale che arrivi un po di merda da parte della community anche di quelli che non sono abbonati siete simpatici per carità ma senza voler essere offensivo andate a lavorare questa questo commento qua questo momento qui viene direttamente alimentato dal fatto di trovarsi un lavoro vero come dice il buon reddits questo lavoro è un lavoro vero quello che fanno loro è un lavoro vero quello che hanno chiesto l'hanno chiesto nella maniera sbagliata mi stupisco ma ogni tanto anche chi è bravo nelle comunicazioni commette degli errori madornali dovevano semplicemente dire ragazzi facciamo un patron e l'avrebbero dovuto fare con tutta la gioia del cuore di poter fare una nuova cosa riversare nuovi contenuti e dire se volete accedere a quello c'è gente che si lamenterà del prezzo ovviamente c'è gente che vi darà dei money grabber chiaramente ma non siete nati i siete più grandi di me e avete come me visto nascere internet e la sua cultura l'avete vista nascere sapete perfettamente come ragiona la gente non c'era bisogno di fare un video in questo caso in cui si andava a affossare quello che youtube perché banalmente non c'è bisogno tutte le volte di dire l'algoritmo fa schifo l'algoritmo è la sua colpa io non noi non noi non è che non funzioniamo più noi perché magari non abbiamo portato delle novità negli ultimi anni o abbiamo diciamo ci siamo seduti sulle nostre sui nostri contenuti o semplicemente la gente magari ha cambiato focus o ancora una volta come ho detto nei video di mai show sul basso maiccio la gente anche altro che può guardare dieci anni fa no oggi un po di più si dà la colpa esternamente questa è una bacchettata che dossier adersi a sinergo in grande amicizia e simpatia loro dovrebbero semplicemente essere un po meno lamentosi nei confronti della piattaforma youtube essere non di che non è non essere conoscenti ma essere consci delle limitazioni con usci del fatto che stando su una piattaforma di altri dall'oggi a domani i guadagni possono anche dimezzarsi quindi cosa fare per sistemare questo problema pattern che in realtà è andare su una piattaforma di altri nuovamente quindi ok ma è un modo comodo per poter avere un'entrata extra che in questo caso non è un'entrata extra sarà l'entrata principale di questi due ragazzi che possa staccarsi da logiche di guadagni di youtube guadagni del loro del loro network le tasse di guadagni su patro e patro si becca comunque un importo anche lì infatti avrei consigliato un altro tipo di piattaforma vabbè non fa niente però riesce a staccarsi da alcune logiche rimangono più soldi dentro potete fare più lavori siatene felici poi i commenti dei coglioni ragazzi ci saranno sempre detto questo io vi saluto detto tutto spero di non avervi tediato troppo link in descrizione a niente in realtà i miei canali e lasciamo perdere link in descrizione per la ad che non esiste di questo video sotto nei commenti io ragazzi vi lecco facciamo partire anche una discussione se ci va al prossimo episodio episodio al prossimo video reaction ma sono separazione non a caldo anche se poi mi sono scaldato noi ci vediamo nei prossimi video a presto ragazzi ciao ciao